Allora, ho qui i blues de getta. Allora ragazzi, io ho visto che voi avete partecipato a tantissimi progetti, volete elencare a questa platea quali sono i principali a cui avete partecipato? Ah, benissimo. A quale abbiamo partecipato? Ah, sì, grazie. Ma a parte tantissimi live a cui abbiamo suonato, ho partecipato a Sonorità Emergenti l'anno scorso organizzato dal Pistoia Blues, sempre a Pistoia, e abbiamo partecipato alla trasmissione proprio a TVL e a questo concorso. È stata un'esperienza molto formativa per il gruppo perché, nel senso, ci sentiamo molto cresciuti, questa esperienza, e ci ha permesso anche poi di conoscere determinate persone che ci hanno permesso di andare avanti con il nostro cammino artistico. E quali sono i vostri futuri progetti? In progetto abbiamo una registrazione di un disco inedito, di inediti, saranno sei brani inediti, scritti da noi, quindi siamo in produzione con un gruppo di registrazione. E quindi questo è il nostro... Valore dei ricordi in studio di Pistoia. E diciamo, questo è quello che ci attende, altri live, altri live vari, questo, fondamentalmente. Facciamo anche loro un grande in bocca al lupo e grazie per essere stati con noi. Ciao! Vale, ti riposto la linea! Grazie!